Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine eccola qua la variante al piano di indirizzo territoriale della regione toscana, predisposta dalla giunta di Enrico Rossi che l'ha presentata insieme agli assessori Marson, Salvadori e Cecco Bau. Un provvedimento che non crea le condizioni solo per potenziare l'aeroporto di Peretola con la costruzione di una nuova pista, ma almeno sulla carta anche per molto altro. Il parco della Piana, 7.000 ettari di verde e coltivazioni da finanziare con 500 milioni di euro di fondi europei. Le aree archeologiche della città etrusca, il prolungamento fino a Sesto Fiorentino della nuova linea della tramvia, ancora da costruire tra la stazione di Santa Maria Novella e l'aeroporto. Interventi sulla viabilità come l'abbassamento del limite di velocità dell'autostrada a 100 km all'ora e la sistemazione dei collegamenti già esistenti tra la Strassigna e Prato. Mi pare che conciliamo bene miglioramento della qualità ambientale, miglioramento della qualità della vita e appunto lo sviluppo e il lavoro di cui c'è estremamente bisogno. Per quanto riguarda la nuova pista, come annunciato, sarà convergente e parallela rispetto all'autostrada, ma monodirezionale e quindi senza pista di rollaggio. Una volta costruita, l'aeroporto sarà più sicuro, i passeggeri potranno triplicare, ma secondo i dati di Arpat, con una forte diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico dei dintorni. Secondo un'indagine dell'IRPET, invece, lo sviluppo dello scalo fiorentino potrebbe creare da 3.000 a 5.000 nuovi posti di lavoro e un aumento del PIL della Toscana da 200 a 400 milioni di euro. Oggi approviamo e mandiamo il tutto in consiglio. Voi sapete che io sono ferocemente convinto dell'idea che i due aeroporti devono stare insieme e quindi ieri abbiamo firmato per la costituzione della holding e credo che entro l'estate sia la holding che la variante possa essere approvata in via definitiva.